Dopo aver studiato la Thailandia sul nostro libro di testo di geografia, abbiamo realizzato una gamification che partecipa ad innovamenti. La gamification è stata realizzata con WorldWall, un'app che serve a creare risorse didattiche, personalizzabili, integranti e facilmente intuitive. Essa si è divisa in diversi lavori che adesso vi andremo ad illustrare. Il primo lavoro realizzato è stato un videogame ispirato a Pac-Man. In questo labirinto il giocatore è il personaggio rosso, che non deve farsi acchiappare dai fantasmi. Questo personaggio ha tre vite e mentre cerca di scappare deve rispondere ad una domanda riguardante la Thailandia. Un altro lavoro realizzato è stato il quiz televisivo. In questo quiz un presentatore ci farà delle domande e noi dovremmo scegliere la risposta esatta. Inoltre possiamo utilizzare anche degli aiuti, come ad esempio del tempo in più o dei suggerimenti. Abbiamo realizzato anche un semplice quiz, dove ci sarà una domanda e noi dovremmo scegliere una tra le sei possibili alternative. In questo videogame abbiamo sette scatole. In ognuna di esse si trova una domanda sulla Thailandia. Se rispondiamo correttamente potremmo passare ad un'altra scatola e di conseguenza ad un'altra domanda. Se invece sbagliamo la scatola si chiuderà. Nell'ultimo videogame ci mettiamo nei panni di un pilota di un aereo, che dovrà volare sulle risposte corrette evitando quelle sbagliate. Se anche voi volete giocare con questi lavori vi postiamo il link in modo tale che possiate divertirvi. Grazie a tutti.